Oggi parleremo di sovrallenamento. Cos'è? Quando è che si va in sovrallenamento e che cosa fare se si è già? Ciao, sono Anthony, sono il personal trainer delle persone che hanno poco tempo da dedicare a se stesse, ma che vogliono comunque ottenere risultati senza troppo stress. Il sovrallenamento, in inglese overtraining, è una condizione fisica, comportamentale ed emotiva che si verifica quando l'intensità e la frequenza dei tuoi allenamenti superano la tua capacità di recupero. Non so se ti è mai capitato, ma quando siamo in sovrallenamento i miglioramenti subiscono uno stallo. Sembra quasi di arrampicarsi su una montagna senza fine. Ci alleniamo ogni giorno senza tregua, al massimo delle nostre possibilità. Eppure invece che migliorare, cosa succede? Rimaniamo fermi dove siamo, addirittura e ragradiamo. A me è capitato tante volte di andare in sovrallenamento. Allora lo fai apposto, dici tu. Il problema, se così vogliamo chiamarlo, è che noi avanti del fitness non ne abbiamo mai abbastanza. Mi ricordo quando mio figlio era piccolo e che ho passato un periodo di overtraining perché in quel periodo mi allenavo tanto, sia in palestra, sia di corsa, sia in mountain bike. Tutto normale, prendevo anche i miei giorni di recupero, ma forse non erano abbastanza. Non avevo messo in conto che la notte non si dormiva tanto. Così un giorno, mentre ero in una salita facilissima, ecco sulla mia bici, le gambe mi si sono praticamente ingessate, il cuore batteva neanche troppo forte, ma la sensazione di stanchezza e di affanno non se ne andavano via. Sono tornato a casa e quella notte mi ricordo che non ho passato una gran notte, nel senso che facevo veramente fatica a dormire, non tanto per i pianti di mio figlio, ma perché mi sentivo una sorta di eccitazione misto a stanchezza. E quindi non riuscivo proprio a prendere sonno. A quel punto ho capito che forse era il caso di fermarsi qualche giorno. Ero diventato apatico, non avevo più fame e mi stancavo, qualsiasi cosa facevo mi veniva subito il fiatone. Lo so bene io cos'è il sovrallenamento. Cosa succede però fisiologicamente quando siamo in questa condizione? Viene prodotto una quantità elevatissima di cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress, che compromette la crescita muscolare e promuove anche l'accumulo di grasso. Anche il sistema riproduttivo può essere compromesso. In alcuni casi le donne accusano amenorrea, mentre negli uomini diminuiscono i livelli di testosterone. Per fortuna, qualche giorno o un paio di settimane di solito bastano per ristabilire l'equilibrio, ma nei casi più gravi ci vogliono dai due o tre mesi. E i cambiamenti sull'amore? Ne vogliamo parlare? Sono un chiaro sintomo di sovrallenamento. La depressione o sindrome da fatica cronica rappresentano la condizione di overtraining più comune, soprattutto negli individui altamente allenati. L'attività fisica, ragazzi, deve farci stare bene e se incominciamo a sentire che parte la cosiddetta fissa, è meglio correre subito ai ripari. Inutile allenare il corpo seppur la testa non ci viene dietro, dico io. Quelli sono i classici sintomi da sovrallenamento, ma come riconoscerli subito? Ci sono determinati sintomi che sono alterazioni della frequenza cardiaca, stanchezza cronica, nausea, disturbi gastrointestinali, mali testa, aumento della sete, perdita dell'appetito, interruzione mestruale, indolenzimento muscolare, bassa autostima, perdita di concentrazione durante il lavoro e senso di tristezza. Un sintomo però dell'overtraining più comune si può riconoscere anche dal fatto che ci ambagliamo spesso. Attenzione però non solo all'allenamento, anche calare troppo le calorie può metterci in una condizione di overtraining perché non diamo i nutrimenti necessari al nostro fisico. Quindi sempre farsi seguire da un esperto. Spero di non avervi messo troppo paura, ma questa condizione veramente non la auguro nessuno. Come possiamo però prevenire questa sindrome da sopra all'allenamento? Dobbiamo programmare i nostri allenamenti come i giorni di recupero. Ricordiamoci sempre che allenarci serve per farci stare meglio, non per farci stare peggio. E la sfida più grande ce l'abbiamo con noi stessi, non con gli altri. Detto questo, vado ad allenarmi, ma domani recupero, eh? Servirà sia al corpo che al mio amore. Meno stress, più risultati. Questo è il mio motto. Continuate a seguirmi anche su Instagram. Segui, io sono in forma. Ciao.